Amici di Football is my life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi video sulla top 11 della prima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Come modulo di questa prima formazione ho scelto di schierare il 3-4-3. In porta ho scelto di mettere Joronen del Brescia. Joronen, che alla sua prima partita con la maglia delle rondinelle si è ben comportato, ha tenuto la porta inviolata nella gara contro il Cagliari, ha compiuto delle parate importanti che hanno permesso al Brescia di vincere sul campo dei Sardi. Altro aspetto che mi ha stupito, se si può dire stupito, è il fatto che sappia già comunicare bene con i propri compagni. Infatti, vedevo diretta gol e lui a un certo punto aveva urlato ai compagni di squadra, marcatura, marcatura, insomma, un segnale forte, un segnale importante, perché un portiere, oltre a saper parare e trasmettere sicurezza ai propri compagni, deve anche saper comunicare. Passando poi alla difesa, il primo giocatore che ho scelto di mettere è Chiellini della Juve. Chiellini che ha segnato il primo gol in assoluto di questo campionato, gol che ha permesso alla Juve di espugnare il campo del Parma, oltre al gol, poi comunque ha giocato una partita rocciosa ed arcigna in difesa, motivo per cui un posto nella top 11 ci sta tutto. Secondo difensore che ho scelto di mettere è tale Rodrigo Becao dell'Udinese. Rodrigo Becao che alla sua prima partita in Serie A ha segnato il gol vittoria dei Friulani contro il Milan, oltre a questo ha saputo tenere a bada un attaccante forte come Piontenc. Fino a una cinquantina d'ore fa non sapevo che questo giocatore giocasse nell'Udinese, anzi non sapevo neanche che esistesse sul planisfero, eppure per i motivi che ho elencato il suo esordio nel massimo campionato italiano non è assolutamente negativo. Infine come terzo difensore ho scelto di mettere De Silvestri del Torino. De Silvestri, uno dei protagonisti della vittoria dei Granata contro il mio Sassuolo, è stato un martello autentico sulla corsia di destra, non è riuscito a segnare, ci è andato però vicino con un colpo di testa su un cross di Ansaldi. Gol non c'è stato, la prestazione invece è sì, quindi promosso a pieni voti. A centrocampo i primi due giocatori che ha scelto di mettere sono due giocatori dell'Inter, sto parlando di Sensi e Brozovic. Il primo praticamente tiene su il centrocampo dell'Inter, non solo è un metronomo che disegna geometrie, ma è anche un giocatore veloce, un giocatore dinamico, un giocatore che segna. L'altro invece, cioè Brozovic, l'ho visto molto ispirato nella partita contro il Lecce, era assolutamente in serata, ha aperto le danze con un bel gol, ne ha aspirato un altro e poi lo trovavi praticamente ovunque. Gli altri due giocatori che ho scelto di mettere a centrocampo sono due giocatori, anche loro della stessa squadra, sto parlando di Luis Alberto e Milinkovic Savic. Luis Alberto che ha illuminato il campo nella vittoria della Lazio contro la Sampdoria, fornendo gli assist per i primi due gol della squadra. Insomma, si è rivisto il Luis Alberto di un paio di stagioni fa. Stessa cosa per Milinkovic Savic, autore di una prova veramente altisonante a centrocampo, un gigante sul rettangolo verde che ha anche fornito l'assist del terzo gol della Lazio. Un Milinkovic Savic che, se conferma quanto di buono ha fatto in questa prima giornata e se ritrova gli stimoli giusti, può essere davvero un nuovo acquisto per la Lazio dopo la stagione non stratosferica che è stata quella scorsa. In attacco, il primo giocatore che ho scelto di mettere è Insigne del Napoli. Insigne, protagonista della vittoria dei partenopei sul campo della Fiorentina, ha segnato due gol, ha fornito un assist, direi che non c'è null'altro da aggiungere. Secondo attaccante che ho scelto di mettere è un amico di Insigne, colui che insieme allo stesso Lorenzigno ha dato spettacolo in quel bellissimo Pescara di Zeman, in quella favolosa esposizione di Zemanlandia in quella di Pescara. Sto parlando di Ciro Immobile. Immobile che contro la Sampdoria, inizialmente si è mangiato qualche gol di troppo quando si è ritrovato davanti alla porta, poi comunque è riuscito a riscattarsi mettendo a segno. Una doppietta, con questa doppietta inoltre non solo ha raggiunto 100 gol, ma è arrivato anche a quota 101. Infine, come ultimo attaccante, come ultimo giocatore di questa top 11, ho scelto di premiare Muriel dell'Atalanta. Muriel che è stato buttato nella mischia da Gasperini nel secondo tempo e lui ha saputo ribagare la fiducia del mister segnando due gol, ribaltando la partita e permettendo alla Dea di vincere la sua prima gara in campionato. Muriel che, come al solito, ha iniziato bene una sua nuova esperienza. Vediamo se saprà confermarsi e se saprà confermarsi sarà sicuramente un valore aggiunto per l'Atalanta. Ad ogni modo, vedendo un po' i precedenti, preferisco andare abbastanza cauto su questo giocatore. Va bene ragazzi, questa è un po' la mia top 11 della prima giornata di Serie A. Fatemi sapere come la pensate, ditemi quali giocatori avreste messo voi in questa formazione. E come al solito mi invito a iscrivervi al canale YouTube, a iscrivervi alla pagina Facebook, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!